Ciao, la buona notizia è che tu puoi diventare la versione migliore di te stesso in qualsiasi momento tu lo desideri, poiché quella parte di te è già presente nel campo universale quantico. Come diventare la parte migliore di te stesso? Sintonizzando sulla stessa frequenza la tua dimensione animica, spirituale, mentale, emotiva, comportamentale e quindi energetica. Come? Attraverso un magico approccio, il dialogo socratico-kinesiologico in meditazione multidimensionale. Grazie a questo dialogo socratico è possibile alineare la tua mente cosciente e la tua mente inconscia alla matrice universale attraverso la meditazione multidimensionale che ti consente di connetterti alle multidimensioni. Grazie a tutti.